A Pescara, dal 7 aprile ad oggi, 6 ottobre, in meno di sei mesi, un milione e mezzo di bici ha attraversato le piste ciclabili lungo la riviera Nord, la riviera Sud, via Valle Roveto e via Muzzi. Questa mattina, intanto, sono state collocate 19 nuove rastrelliere in diversi punti della città. Insieme sulla stessa strada, rispettiamoci, è lo slogan che campeggia sulle rastrelliere che la Federazione ACI ha donato all'amministrazione comunale per migliorare la mobilità sostenibile. Il sindaco Carlo Masci, l'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia, il presidente e il vicepresidente dell'Automobile Club d'Italia, Giampiero Sartorelli e Sandro Brozzetti, hanno evidenziato che le tante iniziative avviate sono tutte rivolte a favorire l'intermodalità e la transizione ecologica. Il sindaco Masci ha detto che l'obiettivo è quello di avere una filovia che da Montesilvano, passando per Pescara, arrivi a Francavilla al Mare e all'aeroporto d'Abruzzo, mentre Sartorelli e Brozzetti hanno ricordato che l'ACI, sponsor del Giro d'Italia di ciclismo, ha organizzato corsi di guida sicura e corsi di formazione rivolti agli studenti e che in collaborazione con il Comune dopo Natale si vuole entrare nelle scuole medie per insegnare l'uso corretto dei monopattini. A tal proposito, l'assessore Albore Mascia ha annunciato una campagna di sensibilizzazione e ha ricordato che il progetto Pedibus, riservato alle scuole elementari, rappresenta un esempio virtuoso. Sulla mobilità si sta facendo un gran lavoro, si va avanti, devo dire che anche si trova la collaborazione dei cittadini, lo slogan di queste rastrelliere è tutti insieme sulla strada, rispettiamoci. E secondo me è una bella essenza proprio per dire che un lavoro costante, quotidiano, rivolto alla mobilità sostenibile non può passare attraverso la collaborazione di tutti gli agenti della strada e soprattutto guardare alla sicurezza che è il tema fondamentale. Quest'anno abbiamo fatto anche una grande campagna di educazione rivolta ai bambini, proprio in questi giorni è partito il Pedibus, i bambini raggiungono la scuola non più attraverso le auto dei genitori o i mezzi dei genitori ma a piedi, attraverso un percorso all'aria aperta anche quando il clima non è favorevole, ma questo dà l'idea anche del vigore dei bambini, della tempra dei bambini, supportati da genitori e insegnanti. Oggi sono centinaia i bambini che a pescare in tre istituti comprensivi e otto scuole raggiungono la mattina a scuola attraverso un percorso a piedi le proprie classi.